Oggi mercoledì 16 ottobre è la giornata mondiale dell'alimentazione. Colgo questa occasione per affrontare due temi importanti. Uno, che cos'è l'alimentazione. L'alimentazione deve essere nutrimento per il nostro corpo, quindi tutto ciò che noi andremo a fare con un'alimentazione sarà quello di andare a nutrire il corpo affinché possa funzionare meglio. Per cui l'associazione alimentazione-nutrizione diventerà salute per il nostro corpo. La seconda cosa importante da definire è l'importanza dell'acqua. L'acqua è determinante, noi siamo formati da oltre il 60% di acqua, per cui l'acqua è un nutrimento importante per il nostro corpo. Buona limitazione a tutti!